Se stai cercando un'oasi di pace e relax che rispetta l'ambiente, allora vieni a scoprire Cala Loka. Immersa in una caletta naturale dalle acque cristalline e circondata dalla natura incontaminata del Parco del Beigua, patrimonio dell'UNESCO, è un autentico tesoro nascosto della riviera Ligure di Ponente da scoprire e godere, perfetto per rigenerare corpo e anima. Attivi da 20 anni, ci impegniamo per offrire prodotti a chilometro zero e di alta qualità con massima attenzione alla sostenibilità. Il nostro Beech Food è la novità del momento, una vasta gamma di prodotti sempre freschi, preparati al momento, per garantirti il massimo della bontà e della genuinità. Ritira il tuo ordine al banco, tutto servito in contenitori biodegradabili, e assapora la nostra proposta semplice e gustosa in una delle nostre suggestive locations. La spiaggia, su prenotazione. Il nuovissimo spazio picnic, creato lungo una scalinata di oltre 160 gradini, che arriva direttamente al mare, immersa nella natura, posto ideale anche per una pausa dallo stress da città. La terrazza vista mare, dove potrai anche vedere all'opera i nostri chef, ed infine la terrazzina impasseggiata, perfetta per una vista sopraelevata dell'orizzonte. Vivi un'esperienza indimenticabile. Visita subito calaloca.it. Scopri in un attimo come venirci a trovare.